Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, credo che questo possa essere l'episodio finale, ma quante volte l'ho detto? Almeno 3-4 volte, però dobbiamo trovare il nucleo energetico, a meno che non ci mettiamo tipo 3 giorni per arrivarci e forse questa è una delle poche cose che mi preoccupa, perché mi avete dato qualche consiglio, ma soprattutto avete rimarcato potentemente il fatto che sarà molto ma molto dura andare avanti Per cui, che la madonna ci accompagni Eravamo 10 di più qua Ok, forse è un po' troppo presto l'ho fatto, vero? Però almeno è morto anche quello Fa niente Mi recupero anche questo Ok, vediamo se ce la facciamo Di qua Fa così Ma non è andato Pure è andato invece Vabbè dai Questo l'abbiamo fregato Tanto Per recuperare 4 proiettini di merda Eh dai Qua dobbiamo stare 20 minuti Poco dice che diventa volviare Sì Ma sta qua dietro sta Ecco qua Eh non vale così eh E sta ancora qua Eh no Fa l'uscita fuori Ok E se ti fai vedere Mi farà un piacere Dove cavolo sta Ma forca Ma forca Ma forca Vabbè ragazzi Ma dove è passato Da dove Ma da dove Allora C'ho un medikit No eh Non so perché Non c'ho un medikit Da uno è pure piccolo Io non ho capito Da dove cavolo è passato Ha fatto il giro Da qui Da qua Dove è passato Ah da qua È passato Maledetto Schifoso Bastardo Momento eh Ho capito Che devo andare là Però quello Penso che Eh Non si è in pulso Non c'è più niente qua eh Ma con questo la posso chiare Vediamo se qua c'è qualcosa per noi Sempre paura che tutto questo sia una trappola Cioè nel senso Se vai di là Magari Ci trovi qualcosa Che Può non fare al caso nostro Certo medikit a noi ci gioverebbe veramente tanto Ma Riva arriva eh Ma che ha fatto Bravo eh Sono un po' preoccupato Non è capito perché questi salgono Scendono Uh c'è un medikit Allora Facciamo così Perché c'è sempre l'inventa Che c'ho tutta sta roba Munizioni di multiraggio Comustibile lanciaframme Non ce l'ho a cambiare Il lanciaframme è unico Lo possiamo anche lasciare Dupuro Lanciaframme l'abbiamo presa L'abbiamo buttata Di qua penso Che bel corridoio Sa un po' di trappola questa Vero? Si Sa un po' di trappola questa Ma sul serio? Ma sul serio? Ma sul serio? Praticamente in questo gioco abbiamo fatto i palegnami Abbiamo fatto i palegnami In tutto questo gioco Perché i palegnami Ma ce l'hai? E vai Anche a caricare Mi sembra giusto Che schifo Ma io non ci dico Guarda Adesso mi è uscito un medit Ma veramente facciavola Allora dimmelo Che me lo fai proprio apposta Plasma 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 E dai No Io non so Guarda Mi trovi tanto Anche ora No Ti prego Veloce E' morto E' morto Si E' morto E' morto E' morto E' safamarone recuperiamo tutto quello che ci ha recuperato abbiamo avuto una bella benedizione vabbè comunque vediamo se posso recuperare qualcosa qua non c'è niente qua ho recuperato qualcosa qua no qua si è meglio che compriamo secondo me perché tipo per esempio l'amaplasma e fucile a impulsi non sarebbe male l'amaplasma e fucile a impulsi ci compriamo la tuta di livello 4 magari ci dice meglio saremo sicuramente più forti è vero che abbiamo speso una bella fortuna però magari con questa tuta potremmo andare un make passiamo passiamo qui c'è questi scarponi perciò sei lento devi cambiare le scarpe secondo me se cambiamo le scarpe andiamo meglio e qua si e come ti però ma poi forse devo devo disattivare la corrente come vediamo aspetto vido se posso salvarti vido non è di qua non è di qua assolutamente come lo salva quello cioè blocchiato l'ammazzo forse gli riesco ma sei spacciato andiamo di qua non mi capisco qualcuno a me è di questo che ti scappi che schiappi secondo me il fatto che scappa è buono per me no allora ci fa il tasto fatta che bella che balla un casino tremendo è un po' difficoltoso da guardare da un po' ma che è sta cosa che è sta ok salgo qua questo secondo me portiamsi la schifosa l'altra ecco ecco non sentova qui ok ok In teoria così non mi volete fregare, no? Ok, continuo l'impressione come se mi fettiasse. Ok, ascio! Ma perché mi fettiasse? Non mi fettiasse? E ai? Dai! Allora, così non pensa che possa aiutare in giro. Se scapeva che non c'era la scelta. Non avevo dubbi, vediamo se mi posso curare un attimo. Ok, pianodiamo. Dai, non ho avuto il sigale. Ok. Basta? Ok, è andato, dai. L'abbiamo distrutto, meno male. Abbiamo messo una vita che ho preso. Porca! La mania totale del motore. Che è successo? Sei tu? L'hai preso? È chi? Oddio, l'hai preso. Proprio quello che ci serve. Raggiunge il ponte equipaggio. Il ponte equipaggio di tua sorella. Aspetta un attimo, voglio vedere se qua c'è qualcosa che mi vuoi... Ora stanno cadendo un sacco di cose. No, vabbè, forse è meglio che ce ne andiamo. C'è un altro medico, perciò. Un momento. L'hai preso? Ma l'hai preso? Eh no, non hai preso una mazza. E dai. Mica di scotti. Oggi, ho capito. Se ci stanno bombardando. O ci arrivano nemici. Oddio mio, dove sta? di contattati non riuscimo a comunicare ma ti guardi stavo sparando oi che paletta Vediamo se ce la facciamo Sciappa, scappa, scappa Non so perché sto lottando con questo Ce l'ho dietro? Non riusciamo a gambizzarlo un pochetto Ok E' a terra? E' morto, è morto, è morto E' morto, è morto, è morto Wow, siamo rimasti soli Però ha fatto una bella morte Vi dico la verità Pensavo che non morisse in semiconduttura e diamante Ha fatto una bella morte Pensavo che mi morisse Pensavo che fosse un traditore Con una carccia di munizioni Va forse, vediamo qualcosa Noi prima o poi becchiamo una pietra in testa e moriamo Devo assolutamente curare Urge urgentemente Non è che ce ne andiamo da qua dentro Mamma santa Salta tutto in aria Speriamo di becchiare Non una cosa del genere Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile Abbandonare la nave Non era un medikit, vero? Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile Abbandonare la nave Ma va L'avevo capito Niente Niente Dove vado? Ok Mi serve un conduttore Vado Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile Abbandonare la nave Credo che tu l'abbia già detto Anche tante volte E dove stiamo andando? Che piano siamo? Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile Abbandonare la nave Speriamo di trovare Vediamo di trovare Medikit Wow, fantastico Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile Abbandonare la nave Sì, un momento Voglio capire se ci possiamo un attimo Ecco Io lo salveremo un attimo Sì, sì, capito Un momento Sto un attimo gestendo la situazione Ma sbagliavo i tasti Qua Non ho capito che Qua è aperto Sì, ma Vai Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile Abbandonare la nave E non si apre la porta Sì Queste parti Porca Quindi Che faccio? Vado qua, vado E dove vado? Mi si sta Scazzando di impossibile Dove dovrei andare? Ah, là Mi carico un attimo Che è meglio Che dici? E che non si carica? Eh, dai, dai Non fa stop Basta Non si carica Non si carica Non c'è bisogno di caricarsi In continuazione Non si carica Non si carica Ok, con questa tuta andiamo fortissime Eh, no Ma stavo scendo Ma stavo scendo Ma stavo scendo Sento dei rumolini Senti Ok Certo che alcuni Sono poco cattivi Per non dire un'altra cosa Vabbè Allora, dovrei aprire Diamante Il semifondruttore diamante Abbiamo Ho sbaglio 25.000 Porca miseria Niente di meno Ho recuperato un sacco di roba Cioè, ho recuperato Ho speso un sacco di roba Allora, di qua Sì Secondo me arriva qualcuno all'improvviso E invece no Qua si salva, ragazzi Si salva Si salva Si salva Si salva Si salva Vabbè Andiamo avanti allora Sì, ma ti può scomparti Vari alloggiamenti Che stiamo raggiungendo E quindi penso che sia la parte finale È salva È certo Certo che mi salvi 7 ore e 31 Capitolo 10 Dai Chi mi entra in comunicazione, no? Deve essere qualcosa Isaac Ho localizzato la navetta trovata da Emon Merda Oh no Il computer della navetta è andato Hanno rimosso le schede di navigazione Non so dirti perché Ce ne sono tre sparse in giro per il ponte Sto scaricando le loro posizioni Da qui non posso accedere alle porte Ti servirà una chiave dell'equipaggio Se riesci a trovare quelle schede Posso rimettere in funzione la navetta E ti pare Che stagia strana Che ti pare Arriva Cosa è che mi fa più ridere di questa cosa? Alla fine stiamo qua Recuperiamo un cuoforo di roba Per fare agli altri fare qualcosa Perché Noi siamo bravi a recuperare Ma loro non sono bravi a recuperare Ma sono bravi a riparare Sto delirando secondo me Vabbè Questa che cos'è? Ancora Ma perché mi agili sempre sta pistola? Ma io non lo so Davanti Figlia questa E figlia Oh Eh salviamo Ma boh capirà Abbiamo salvato 20 secondi fa Salvo perché mi spavento Nudo non ne tengo Penso Però Questa non la fa piglia Controllo Ma sono sicuro Di non avere nessun nudo Vici Che guardi a fare Inizio l'abbiamo Allora Tagliatore Pistola multiraggio Pistola multiraggio E' quella che No Lava Ah No Capacità Ho sempre sbagliato E' che Canta Ma cosa puoi aggrapparti Quando intorno a te C'è solo disperazione La dottoressa Cross Era una vera credente Aveva fede Ora lei Attende la trasformazione La rinascita Tu sei pronto Per l'ascensione Signor Madonna Dove c'erano in fila Non avere paura Molto presto Farai la tua parte Osserva La convinzione Che deriva Dalla vera fede Ok Loro sono pronti Accordili Abbracciali Ah ma si muove ancora Bellissimo No Non sta molto bene No Vabbè Ma che siamo in questa zona Che zona strana Ah devo entrare da lui Vai giro E' blocchiato Ah Mi ha Apertura Ma ci stanno Queste cose Per Per No Dio mio Madonna I pulpi Quanto rischio a morte Ah no Sono i peggio Non puoi passare Penso Vero Non puoi passare Vero No Non puoi passare T'arresti già passato Penso Ok Questo Grande Allora Questa ce la prendiamo Questa non so cosa sia Mi sa che scendo Queste sono gioia Vedi Veloce 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 Scusi Bastardi Che non morite mai Scappa 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 Che almeno Li guardiamo Poi Ok Sempre È morto È morto Dove stanno È morto Basta Vero Ancora Parca Madonna Santa Chi è che si lamenta Grande Ma dove vado Ah devo risalire Allora ho recuperato qualcosa Non confuso No Dove ci sono Ah di qua Chi va dentro Ma Clark Devo assolutamente Parlarti Sono vicino Alla tua posizione E so che ti interesserà Sentire ciò che ho Degli ultimi Posso spiegare tutto Cosa è successo Quando hai le schede Di navigazione Raggiungi la postazione Della sicurezza Dobbiamo parlare Presto Ma Non lo so Secondo me Questo ci pre E ti giri così Mi penso che Devo andare a ritare Vai Sì E qua E spara Non c'è Non c'erai Ma quante ce ne stanno Queste cose Scusate È andato? Niente Va Stavo beccando Non c'è c'è 50 miliardi di proiettili Per ammazzarlo Ne vale la pena Forse no Un bagno Di solito nel bagno Ci si becca sempre un sacco di roba Magari Stavolta no Infatti non ci sta niente No, ci sta niente Proprio Pesce Stiamo avanzando un po' Ok, sta salendo Come che avanziamo così tanto oggi? Ma mi sa che tra un po' Ho voglia di salvare Perché ho voglia di morire Il supporto vitale nel quartiere alloggio B è stato disattivato Trovo un sistema di sblocco lì vicino per arrivare alla porta Vabbè Ragazzi Io penso che qui salvo Pensavo che siamo in dirittura di arrivo E invece Mi sa che Ci vuole ancora un po' di tempo Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao!